Buonasera ancora e benvenuti all'altro appuntamento, all'ultimo appuntamento, l'ultima catechesi di Monsignor Arcivesco, soprattutto sul sacramento della riconciliazione e della confessione, un modo migliore per prepararci così individualmente a questo grande dono pasquale della riconciliazione e del perdono. La miseria e la misericordia è il binomio sul quale stiamo riflettendo e ho diviso le due meditazioni proprio così. La miseria, tre settimane fa, e oggi la misericordia. Parlando della miseria, avevo cominciato dando dei numeri, quasi dando dei numeri. Nella Bibbia la parola miseria, dicevo, è presente 49 volte. Non sono affezionato alle combinazioni numeriche, però mi ha colpito che fosse 7 per 7. come dire che quando si parla dell'uomo è sempre riferita all'essere umano, alla miseria, a una sua pienezza, il numero 7. Ma se contiamo le ricorrenze di misericordia, abbiamo una curiosa coincidenza. 147 volte, cioè 49 per 3. Quasi a dire che se la miseria riempie la vita umana, la misericordia è immensamente più grande. È tre volte più grande della miseria. Dio, cioè, non si fa certamente vincere dalla nostra miseria. Vi ricordavo anche che la misericordia, nella etimologia latina, è la nostra miseria che entra nel cuore di Dio. Dunque nessuna paura perché il cuore di Dio è molto più grande del nostro. È capace di accogliere almeno tre volte tutte le miserie del mondo. Noi abbiamo proprio qui, scolpite sulla pietra, due scene che sembrano il contrario l'una dell'altra. La volta scorsa facevo notare le due formelle di Pietro e di Giuda, guardando alla miseria. Due grandi miserie, il tradimento e il rinnegamento. Oggi guardiamo alla misericordia. Guardiamo a Gesù che è qui, nell'ambune, Gesù seduto sulla cattedra, Gesù che insegna il Maestro. E che poi, poco sotto, anzi qui risulta a fianco, a fianco nel pontile, lava i piedi a Pietro. Il massimo della solennità, Cristo in trono, benedice, e il massimo dell'abbassamento, Cristo davanti a un catino che lava i piedi. Questa è la misericordia. Il Signore è immensamente grande. È un maestro che non si fa abbattere da nessuna dottrina umana. Ma proprio questa sua dottrina, questa sua maestà, si può permettere di abbassarsi fino ai piedi degli uomini. fino ad andare a raccogliere ciò che di più basso c'è nell'umanità. La nostra miseria è visitata, è accolta, è lavata dal Figlio di Dio. Quando noi parliamo di misericordia, sappiamo che stiamo parlando di una idea materna. La misericordia è qualcosa che ci tocca dentro. La misericordia, nella etimologia greca, non in quella latina, ha a che fare col grembo materno. E questo noi, nel Vangelo, lo incontriamo diverse volte, almeno cinque volte. È sempre il Signore il soggetto della misericordia. Accenno semplicemente in questi minuti ad una delle scene nelle quali la misericordia si rende più trasparente. Direi più invadente. È impossibile non vederla. Ed è la famosissima parabola, forse la più famosa dell'Angelo, chiamata in diversi modi, la parabola dei due figli, la parabola del padre misericordioso, o la parabola del figlio del prodigo. Qualcuno l'ha chiamata la parabola del padre prodigo, perché è un padre che esagera. Io, alla fine, darei un altro nome, forse un po' più simpatico, che vi dico un po' dopo. Ma questa parabola ben nota rappresenta anche un itinerario penitenziale. Questi due incontri servono anche a prepararci al sacramento della penitenza. E la parabola di Luca, capitolo 15, il padre misericordioso, è proprio un percorso penitenziale. Sono cinque scene che cominciano dal peccato. Nella prima scena, dove c'è il figlio minore, un uomo aveva due figli, e il minore disse al padre, dammi la parte del patrimonio che mi spetta. Molti fanno notare che il figlio minore tratta il padre come se fosse già morto. La divisione del patrimonio normalmente avveniva dopo la morte del padre, e non avveniva in parti uguali. Al primo genito, maschio, toccava la metà dei beni, e il resto veniva diviso tra gli altri figli. A questo figlio minore conveniva fare subito la divisione, forse travalicando, andando oltre quello che era permesso, perché essendo in due gli toccava proprio la metà. Fossero arrivati altri fratelli, avrebbe dovuto suddividerli ulteriormente. Forse dunque c'è anche un calcolo dietro a questo. C'è una pretesa poco fondata sulla legge. C'è soprattutto una grande presunzione, mi spetta. La parte del patrimonio che mi spetta va a battere cassa, e tratta il padre come se fosse morto, come se già quella fosse un'eredità. Il padre divise tra loro le sostanze. Il figlio se ne andò. La cosa che colpisce di più è che il padre non fa nessuna obiezione. È la libertà che ci lascia il Signore. E non è detto neanche il motivo per cui il figlio se ne è andato. Quali sono i motivi per trasgredire la legge del padre? Quali sono i motivi per abbandonare la casa paterna? Quali sono le ragioni del peccato? Può essere un istinto che il figlio non riesce a dominare. Può essere un senso di schiavitù che lui vive in quella casa. Può essere la percezione che fuori c'è una libertà maggiore. Si può fare ciò che si vuole. Può essere semplicemente il desiderio di avventura. Sono tante le motivazioni per fare una passeggiata fuori dalla casa del padre o addirittura, come dice la parabola, per andarsene lontani. Se è una passeggiatina noi la chiamiamo peccato meniale. Se è un viaggio lo chiamiamo peccato mortale. la gravità del peccato che cambia ma il motivo è sempre quello. Nella casa del padre ci sto stretto. C'è qualcosa di più bello fuori. La seconda scena presenta le conseguenze del peccato. Il peccato è la scelta libera di andarsene che mette in gioco anche la libertà di Dio. perché Dio non ci tratta come dei burattini telecomandati ma come dei figli. Ma poi l'uomo sperimenta le conseguenze del peccato. E sono conseguenze che si potrebbero riassumere nella parola solitudine. Questo figlio presenta e sperimenta una immensa solitudine. È lontano dalla famiglia, dal padre. Dunque ha tagliato i legami più cari. È solo rispetto agli amici che lo frequentavano quando aveva il denaro e lo hanno abbandonato quando il denaro è finito. È solo esmarrito rispetto a se stesso. Infatti il Vangelo dice dopo un po' rientrò in se stesso. Ed è anche isolato rispetto al resto del creato. Ci sono i due elementi, i vegetali, le carrube, gli animali, i porci, che gli diventano nemici. I porci gli impediscono di raggiungere le carrube. Sono quattro solitudini ben note per i lettori della Bibbia e per gli ascoltatori di Gesù. Perché le avevano già sentite nel racconto del peccato della Genesi di Adamo ed Eva. Che noi chiamiamo il peccato originale, ma non nel senso cronologico, ma nel senso che è all'origine di ogni peccato. È dentro l'uomo questo peccato. Ogni volta che sceglie contro Dio. Quando Adamo ed Eva, secondo questa bella e vera parabola, scelgono di trasgredire la legge, come fa il figlio minore, si trovano soli, isolati. Si trovano a vivere la solitudine rispetto a Dio. La solitudine è il conflitto l'uno con l'altro. La donna che tu mi hai posta accanto, mentre prima era ossa della mia ossa, carne della mia carne. La solitudine rispetto a se stessi provano smarrimento, paura, ho avuto timore, dice Adamo. E anche una ferita nei confronti del resto del creato, che nel linguaggio della Genesi è espressa come la fatica dell'uomo nel lavoro e la sofferenza della donna nel parto. Le quattro solitudini. Ogni peccato, in proporzione alla sua gravità, ha come effetto la solitudine nei confronti di Dio, degli altri, di se stessi, del creato. Ogni peccato crea una bolla, un isolamento, taglia dei legami. Ma la Genesi termina qui. Il terzo capitolo della Genesi termina con la cacciata di Adamo ed Eva dal paradiso terrestre e comincia poi l'avventura umana. Invece Gesù continua. Ci sono altre tre scene nel Vangelo. Perché il Vangelo è il trionfo della misericordia sulla miseria. E c'è la terza scena della parabola che è quella, stavo per dire del pentimento, ma direi quasi del calcolo. Perché non c'è un pentimento da manuale. Non c'è una riflessione tale per cui quel ragazzo sia veramente dispiaciuto di avere offeso suo padre e la sua famiglia. c'è un calcolo. C'è un calcolo. Là c'è almeno da mangiare. Qui muoio di fame. Mi alzerò e andrò da mio padre. Il motivo per cui il figlio ritorna è semplicemente un motivo di sopravvivenza. È un bilancio. E qui finalmente lo riconosce come padre. Anche se... Poi lui prepara la frase da dire. Sono in realtà tre frasi. Che rispecchiano un vero pentimento. Ma non sono frasi autentiche. È un po' falso. Ha la faccia tosta. Padre ho peccato contro il cielo e contro di te. Questa sarà la scusa ufficiale del ritorno. Non sono più degno di essere chiamato tuo figlio. E poi la terza frase. Trattami almeno come uno dei tuoi servi, dei tuoi salariati. E torna. La quarta scena è assolutamente inaspettata. Credo che anche gli ascoltatori di Gesù si siano alcuni scandalizzati e altri meravigliati. Che cosa avrebbe potuto aspettarsi questo ragazzo? Teoricamente un atteggiamento di ira. Una sorta di giustizia vendicativa. Il padre avrebbe potuto dirgli rientra come un garzone. E lavori per il tempo doppio dei beni che mi hai sottratto. Così impari. È una punizione con gli interessi. Però il figlio sapeva che il padre non era vendicativo. Avrebbe potuto aspettarsi un atteggiamento giusto, di giustizia retributiva. Cioè, torni, ti riprendo in casa e lavori per il tempo necessario a risarcire il bene che mi hai portato via. Ma non fa neanche questo il padre. Forse il figlio poteva sperare un terzo atteggiamento. Ti riprendo. Ti riprendo. Ci mette una pietra sopra. Amici come prima. Ritorna come figlio. La cosa sorprendente è che il padre non fa neanche così. Che cosa fa il padre? Assume un atteggiamento che sembra fuori da ogni misura. Fuori da ogni logica. Il Vangelo è molto attento nell'usare i termini. Il padre lo vide quando era lontano. Si immagina a un piano rialzato, forse al secondo piano della casa, al piano nobile. Non si immagina il padre intento al lavoro, per cercare magari di dimenticare. Si immagina un padre in attesa fervente. E già questo è piuttosto strabiliante. Ma poi quando lo vide, si commosse. Commosso, ricorse incontro. Si commuove. Qui abbiamo la parola misericordia. Abbiamo il verbo, che significa proprio si muove il greppo. Questo padre ha dei sentimenti materni. Il figlio è come se lo generasse di nuovo dentro di lui. Ed è questo il verbo decisivo. Gli corse incontro. Da notare che un uomo adulto, rispettabile, all'epoca non correva mai. Correvano gli schiavi per il lavoro, correvano gli atleti per le gare. Ma gli uomini adulti non correvano. Anzi, il passo doveva essere piuttosto solenne. Più uno aveva autorità, più il passo era lento e solenne. Si diceva che la persona nobile deve incedere, non deve camminare. Un passo alla volta. Questo padre sembra quasi che perda la sua dignità, pur di raggiungere velocemente il figlio. Lo abbracciò, lo baciò. Sembra che sia lui a doversi far perdonare qualcosa. E poi il figlio, come se niente fosse, attacca la scusa. Quello che si era preparato. Padre, ho peccato contro il cielo e contro di te. Non sono più degno di essere chiamato tuo figlio. E manca la terza frase. Manca non perché il figlio se la sia dimenticata. Chissà quante volte si è ripetuto le tre frasi. Manca perché il padre lo porta in casa e organizza la festa. Il Vangelo dice, ma il padre, cioè interrompe. L'accusa dei peccati è importante. Il padre lo lascia parlare un po'. È importante che uno si renda conto del male che ha fatto, che lo esprima. È importante che uno presenti la sua miseria. però sembra quasi che il Vangelo dica al Signore non interessa tanto che cosa hai fatto. Mi interessa che sei tornato. Serve a te dire la tua miseria. Il Signore la conosce già. Lui vuole semplicemente abbracciarti. E c'è poi la scena della festa che non è gradita da tutti. La scena della festa è in realtà, nel linguaggio che usa il Vangelo di Luca, una scena principesca. Cioè è la scena dell'istituzione del principe. Gli organizza la festa, uccide il vitello grasso, gli mette l'anello al dito, i calzari ai piedi. È veramente una nomina. Questo figlio che diceva, prendimi almeno come uno dei tuoi servi, dei tuoi garzoni. E poteva però sperare che il padre lo riprendesse al livello di prima. Si vede addirittura innalzato. È diventato qualcosa che prima non era. È stata organizzata una festa che non ci sarebbe stata se il figlio non fosse andato via. Gesù non dice che il figlio ha fatto bene ad andare via. Dice che il padre fa bene a riprenderlo in casa perché è tornato. Nello stesso capitolo dice c'è più gioia in cielo per un peccatore perdonato e per 99 giusti che non hanno bisogno di conversione. Ma questa festa non va bene a tutti. La scena finale è parallela a quella del ritorno. L'altro figlio torna dai campi, sente la musica e le danze e anche lui si arresta fuori dalla casa. Il padre deve uscire una seconda volta. Il dialogo è stupendo. Noi istintivamente prendiamo le parti di questo figlio maggiore. Il suo ragionamento non fa una piega. quando un servo gli dice è tornato il tuo fratello e tuo padre ha organizzato una festa per lui ha ucciso il vitello grasso sale dentro di lui una rabbia incontenibile e non voleva entrare. e dice al padre in maniera in maniera in maniera incontenibile io ti ho servito sempre, non ho mai trasgredito nessuno dei tuoi comandi e tu per me non hai ucciso nemmeno un capretto. Per questo che ha dilapidato tutto, con le prostitute in tutti i modi, hai ucciso il vitello grasso. Chi non gli darebbe ragione? Sul piano della giustizia retributiva è ineccepibile. Non ha trasgredito nessun comando. È uno che osserva la legge. È uno che lavora. È uno che segue le regole e le norme della casa. E per lui neanche un capretto. La risposta del padre credo che sia il punto più alto dello svelamento del cuore di Dio. Ci sono tanti passi nei Vangeli dove il Signore svele il suo cuore ma credo che pochi raggiungano questa altezza. «Figlio, tutto ciò che è tuo è mio. Tu sei sempre con me». Già questo basta. Cioè Dio sta dicendo, il Signore sta dicendo che condivide tutto con l'uomo. Quel padre sta dicendo che la grande gioia del figlio maggiore deve essere una condivisione che non è mai venuta meno. Gli sta dicendo, ma perché sei invidioso di questo tuo fratello che era morto, come gli dice. Era morto, cioè ha perduto la casa del padre. aveva abbandonato tutto, ha tagliato le sue relazioni e ha già avuto la punizione per la sua scelta. Ma tu sei sempre con me, tutto ciò che è mio è tuo. Non ti rendi conto che questa è la grande gioia della vita. Non scappare dalla casa del padre, ma stare nella casa del padre. Non separare i beni, ma condividere i beni. Tutto ciò che è mio è tuo. E non bisognava far festa e rallegarsi. Questo è il piano della misericordia di Dio. Che sta dicendo anche al figlio maggiore, il quale alla fine è il più duro della parabola. Sta dicendo la misericordia è anche per te, è soprattutto per te, è stata soprattutto per te, ma tu non te ne sei reso conto. Non ti sei reso conto della fortuna che hai avuto, della situazione ideale di stare con me. Lo stare con il Signore. Noi non sappiamo se il figlio maggiore è entrato in casa perché Gesù non l'ha detto. Lascia a noi, lettori e ascoltatori, di decidere di misurarci con questi due figli. E' evidente che per lui il figlio minore è il pubblicano che si converte, il figlio maggiore è il fariseo che non trasgredisce mai la legge, ma non vive una relazione profonda con Dio. Io proporrei questo titolo un po' curioso, la parabola dei tre animali. Perché in realtà ci sono tre animali nascosti nella parabola. Ci sono i maialini, c'è il vitello grasso e c'è il capretto, che sono anche tre immagini di come noi possiamo metterci davanti al Signore. I maialini sono collegati al figlio minore, il capretto al figlio maggiore e il vitello grasso al padre. I porci, come sappiamo, per gli ebrei erano animali impuri e non c'era condanna più grande di pascolare i porci per un ebreo. voleva dire essere a contatto continuo con degli animali impuri. Sono l'immagine dell'istinto. L'istinto, quello che spinge il figlio ad andarsene di casa. E' quel livello, che è il livello del peccato, ci porta sempre alla solitudine, all'insoddisfazione, alla tristezza, ad uscire da noi stessi. C'è poi il livello del capretto, che il figlio maggiore evoca come elemento di scambio. Almeno un capretto me lo potevi dare. Il capretto, nella parabola, è l'immagine di una concezione contrattuale del rapporto col padre. Il capretto vuol dire, se io osservo i comandi, tu mi devi retribuire. E' il piano della giustizia retributiva. E' la paga. Ma il piano del padre, il livello del padre, è quello del vitello grasso. L'abbondanza, l'esagerazione. E' il piano della grazia. Ogni relazione con Dio si gioca attorno a queste tre dimensioni, a questi tre animali, potremmo dire. L'istinto, la giustizia, la grazia. La misericordia mette in campo la grazia. Supera la giustizia. Guarisce l'istinto. Non dobbiamo mai pensare che la misericordia di Dio si faccia spaventare dalla nostra miseria. Ciò che ci chiede il Signore è di confessare sinceramente il nostro peccato. E Lui non rifiuterà mai di uccidere per noi il vitello grasso. Cioè di riversare sulla nostra vita la sua misericordia. Non possiamo peraltro che ringraziare ancora una volta il nostro arcivesco per queste parole, per le sue catechesi, per i suoi interventi. A volte noi ce le sberghiamo un po' in fretta con un grazie. E noi preti aggiungiamo spesso, ti ricorderò nella mia preghiera. Vorrei che questo non fosse un modo di dire, ma che diventi davvero per noi, ma non ho nessun dubbio, un atto di riconoscenza e di ringraziamento al nostro Monsignor Arcivesco. E vorrei concludere con voi, appena suonata la campana dell'Angelus, concludere con la preghiera mariana. Siamo retiplici dalla solennità dell'Annunciazione del Signore. Non so se avete visto qualche fotogramma, qualche scena della celebrazione che si è tenuta nella Basilica dell'Annunciazione a Nazareth. Mi commuove sempre vedere quella scritta sotto all'altare, ic verbum carum factum est. E oggi nella cappella della Dolorata, la festa della Madonna dei Sette Dolori, sulla cappella del Monte Calvario, all'interno della Basilica del Santo Sepolcro. Quindi la nostra preghiera a Maria, questa sera, per la nostra comunità, per la nostra Chiesa e soprattutto per il nostro Arcivesco. L'Angelo del Signore porta l'Annuncio a Maria. Ave Maria piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetti il frutto del tuo seno, Gesù. L'Angelo del Signore porta l'Annuncio a Maria. Ecco l'Angella del Signore. Ave Maria piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria piena di grazia, il Signore è con te. Ave Maria piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Prega per noi, Santa Madre di Dio. Ave Maria piena di grazia, il Signore è con te. Preghiamo. O Dio, che in questo tempo concedi alla tua Chiesa di imitare la Deata Vergine Maria, nella contemplazione della passione di Cristo, donaci, per sua intercessione, di conformarci sempre più al tuo Figlio unigenito e di giungere alla pienezza della sua grazia. Egli è Dio e vive regno con te per tutti i secoli dei secoli. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. L'eterno riposo dona loro, Signore, e splendida a Vessi la voce e la ripetua. Ripose nella pace. Eccellenza, le chiediamo ancora la benedizione, se non della buona notte, almeno della buona serata, e soprattutto la benedizione perché possiamo vivere con intensità e con verità, pure nei limiti e appunto nelle limitazioni prescritte la settimana santa dalla passione morte e risurrezione del Signore. E ancora grazie da tutti noi. Il Signore sia con voi. Buona settimana santa. Vi benedica Dio ripotente, Padre e Figlio e Spirito Santo. Amo. Anche da parte mia, grazie e buona settimana santa. Grazie.